E' indagato con l'accusa di associazione delinquere il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, con l'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini, insieme ad altre 24 persone e 5 soggetti giuridici. Secondo l'accusa, le persone raggiunte da viso di garanzia sarebbero coinvolti in un'inchiesta sul presunto derrenaggio di soldi pubblici destinati alla realizzazione di progetti ambientali all'estero. Per quanto concerne il coinvolgimento di Chiuto, si tratterebbe di vicende legate alla sua attività professionale ed alcuni lavori effettuate dal 2008 al 2010 in Cina. Il primo cittadino del capologo Bruzio ha affidato a Facebook il suo pensiero. Qualcuno è andato a scovare per poi diffondere una notizia vecchia di diversi mesi pensando di farmi un danno in questo momento particolare. Lo stesso Chiuto ha sottolineato come l'avviso di conclusione indagini sia stato ricevuto prima dell'estate. Il mio avvocato ha concluso Chiuto su Facebook, mi ha rassicurato sul fatto che la vicenda, per la parte che mi riguarda, può essere certamente chiarita. Sono fiducioso perché tranquillo del mio operato e rispettoso del lavoro dei magistrati.